Anche se non l'ha ancora ufficializzata, il sindaco di Barletta, Mino Cannito, ha già deciso i componenti della sua giunta. Lo ha fatto tenendo conto degli accordi interni ed esterni alla sua coalizione. Vice sindaco sarà l'avvocato Giuseppe Di Leo, insieme ad Anna Maria Riefolo, in quota alla lista Cannito sindaco. L'avvocato Pierpaolo Grimaldi e Katia Gianfrancesco sono invece quelli indicati da Forza Italia. Giuseppe Germano e Oronzo Cilli sono gli assessori di Fratelli d'Italia, Lucia Ricatti di Barletta nel cuore, Francesca Piccolo di Amico e Michele Loconte di Barletta al centro. Non si conoscono ancora le deleghe che verranno assegnate in occasione della presentazione ufficiale dell'esecutivo. Della vecchia amministrazione gli assessori confermati sono Ricatti e Cilli, candidati non eletti, così come altri quattro assessori. Non manca qualche mal di pancia, che però possiamo definire fisiologico, perché si manifesta solo nei bar. Come presidente del Consiglio Comunale è stato indicato l'avvocato Marcello Lanotte, il più suffragato di Forza Italia, primo partito della coalizione. Va rilevato, come non ci siano tra gli assessori, consiglieri eletti e che, per accettare l'incarico, si sarebbero dovuti dimettere. La Giunta, quindi, è frutto di un accordo di coalizione o della serie, fiducia innanzitutto. Il tempo per esprimere giudizi sulle scelte fatte e sul perché sono state fatte non mancherà, ma nel frattempo chi ha vinto decide, sceglie e governa.